E' arrivato il trasferimento, si cambia aria e ora dove mi volete portare? E' che ne sa' ci, io ne so. Sarà più facile, a me venire a trovare tutti i suoi mani. E' che ne sa' ci, io ne so' ci, io ne so' ci, io ne so' ci, io ne so' ci. Andor baghe me ne dora na casa, te scrive d'olje ka, un javigliaccio koldero, baba. Figlio mio, mo sta' ecca, quanta felicità, moda faccia e non vede che amare. E' che ne so' ci, io ne so' ci, io ne so' ci, io ne so' ci. E' che ne so' so' ci, io ne so' ci... E' che ne so' ci, io ne so' ci, io ne so' ci, io ne so' ci. Ancora quattro mesi è papà bà 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 Tutti i massetti è tattato la mamma da un c'è nà Io mio giuro che quando stai alberetta Non vai a andare ancora a scopare Tu non sai a papà che io insieme a mamma Questa volta poter me morire E ora che stiamo sotto stessa città Mi sento quasi libero papà Di mano, di mano mi vorrei pure a quello Non c'è volta neanche pensato Che rimane, che rimane mi abbraccia a mamma mia E dici, dici la vecchia amica io so pure Che non si vede più conto da me Perché finalmente mostro il figlio suo Ogni settimana, ogni settimana si può venire a casa Concludo questa lettera con baci e abbracci Dal vostro figlio Gianni Lo voglio bene, lo voglio bene Figlio mio, mostro il figlio mio Questa felicità Molta faccia non vede che amare Molta vorreta a mamma Questa felicità A tu sia bovasà E la mente ha arrivato un momento A tu sia bovasà E la mente ha riuscito A tu sia bovasà E la mente che ha riuscito a stare E te la gioia Andoro guardami Tutte ma setta E te la mangiare Quando tu hai sister E te la mangiare E te la mangiare Tu non sai a papà, che io insieme a mamma, che stavola potremmo morire. Secondo piano, stanza 45, il detenuto Giovanni Vezzosi si prepara per il colloquio. Papà, mamà. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Al prossimo episodio